ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo mio nuovo video oggi siamo qui con tre gradi perché tre gradi perché oggi c'è un raduno e mi hanno invitato quindi ci sto andando il raduno si trova in provincia di brescia quindi ho 100 chilometri da fare con questo freddo e niente una volta che arrivo o ho qualcos'altro a farvi vedere riaccendo la gopro bene raga allora io sono arrivato sono le ancora sono le 11 e mezza 11 20 intanto è uscito un video online attenzione e niente dico che aveva il 300 si sente che la carburazione ormai è proprio al limite infatti c'è guardate la marmitta come si sta colorando come non so cosa adesso comunque vado a mangiare c'è una mia amica mi ospita e quindi vado a scaldarmi un po dopodiché andiamo a raduno speriamo non ci sia abbastanza ignoranza dai bene raga allora siamo pronti per il raduno cosa è arrivata la pula a monti bene dovevamo andare a raduno a monti chiari solo che la polizia stava già aspettando i pro di guerrieri invernali e quindi mi sa che andiamo a fare due cazzate in zona industriale qua a lunato è proprio opaco questo giorno andiamo siamo qua vieni avanti vieni avanti se no sfondiamo al mono dai che si ingolfa oggi è una sfiga accensione di merda ci è vero inizia inizia anche a piovere vaffa il culo dai vai mi hai detto di seguirti è proprio una boiata adesso vai facciamo eh facciamo cioè non sono neanche capaci in due sinceramente poi con questi guanti non sono capace in due provo da solo vediamo se va che freddo che freddo ops va tranquilli 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 voglia non frenava molto male no no posto è maledetto eh ma non frenava eh no tranquilli sì in realtà sì eh l'ho chiuso a sinistra eh vabbè dai bisognava inaugurarla vabbè vabbè non stai bene sì sì tranquilli no non sono finito sotto che sbatti però ci stanno adesso vado lì no no lì l'ho togliato io eh voleva chiudere a sinistra e ce l'ha fatto oh cosa ho detto da sui mie schieno ma qua ci me la sono guffata o ci ho dietro ok adesso vai anche con te ma pensavo di farmi più moglie sinceramente sono a posto le olis eh vabbè davvero i schieno mo oh 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 ah oh 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 adesso devo cambiare manubrio per forza che tega cosa? bello mi fai una foto mentre faccio burnout mi fai una foto mentre faccio burnout mi fai una foto male a tuo posto? cos'è questa? 300 che? 300 bello che moto è? mt07 se vuoi si sennò fai uguale chi è che va? che è che va via? puoi rifarlo? mi fai una seconda ma seconda o tu a fa? ahhh no 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 mi dai una mano a finire la gomma però solo a sinistra se no solo a sinistra se no non torno a casa vai barnauto vai barnauto aspetta la la si tira molto si ma metti la la ti aspetto aspetta aspetta anche so oh 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 anche devo buttarmi un po' sulla sinistra perchè devo finirla solo a sinistra capito com'è aspetta 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 perfetto ciao bello ciao ciao bello bene raga allora sono caduto oggi fatto burnout distrutto tutto adesso è ora di sistemare la moto vabbè non si è fatta niente in realtà c'è solo cambiare il manubrio e niente raga spero che il video vi sia piaciuto non so come sarà uscito comunque state sempre attenti in moto perché non si sa mai cosa può succedere in giro anche se impennate raga sempre attenti sempre protezioni io non mi sono fatto niente oggi infatti quindi mi raccomando niente raga ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao